Ciao a tutti amici, sono io, Irie War, e oggi sono qui per aprire insieme a voi tantissime bustine dell'album di Me Contro Te. Allora ragazzi, pochissimo tempo fa avevamo visto insieme lo sticker album di Me Contro Te, e avevamo anche aperto alcune bustine e visto le varie figurine. Siccome voglio cercare di trovare la golden card e anche di completare l'album, ho deciso appunto di comprare nuovi pacchetti di figurine e aprirli insieme a voi per cercare appunto di completare l'album. Inoltre, vi dico di più, guardate il video fino alla fine perché vi parlerò di un giveaway, visto che in tanti mi stavate chiedendo di fare un nuovo giveaway, in questo video ve ne parlerò, però più in là. Inoltre, se dovessi trovare la golden card, aggiungerò anche questa tra i premi del giveaway, visto che io diciamo non ho tempo, specialmente in questo periodo, di passare una giornata con lui e Sophie, quindi almeno la farò vincere a uno di voi. Allora, detto ciò io direi di iniziare subito, qui c'è appunto il pacchetto con le varie bustine, qui in quest'altro, che è dello scorso video, ho intenzione di mettere i doppioni. Ok, allora, iniziamo subito. Prendiamo il primo pacchetto. L'album l'avevamo già visto nell'altro video, quindi penso non serva rivederlo tutto. Ok, allora, abbiamo trovato il loro cucciolo, che sarebbe Kira, poi questo pezzo, che non so, Sophie, sempre un pezzo di, credo, una mega figurina, penso quella che si trova alla fine. Sì, poi vabbè, lo vedremo meglio. E poi il personaggio di lui. Nella seconda bustina abbiamo trovato lui, poi una parte, un pezzo di una figurina, un altro pezzo, e poi Sophie. Ah no, e poi c'è un'altra figurina con lui e Sophie insieme. Poi, vediamo, vediamo. Di nuovo la stessa figurina, quindi mettiamola già di lato. Poi, sempre lui e Sophie. Sophie da piccola. Sempre Sophie da piccola. E un'altra figurina uguale a quella che abbiamo già trovato. Cioè, ragazzi, tre bustine e già due doppioni. Abbiamo poi lui. Dopodiché c'è l'altro loro cucciolo, che sarebbe Ray. Poi, poi questa figurina, che credo di averla già trovata. Sì, poi vabbè, vedrò meglio. Questa, sempre Sophie, che se non sbaglio ho già trovato. Perfetto, tanti bei doppioni, che bello. Poi c'è quest'altra figurina di lui, mentre mangio un gelato, che però avevo già trovato la scorsa volta. Quindi, alla fine di questa bustina, solo due figurine nuove. Ok, dopodiché c'è lui. Sempre lui. Poi, il loro cucciolo. In questo caso Kira, però in versione, diciamo, cartone animato, disegnato. E di nuovo questa bustina. Cioè, questa figurina, per l'ennesima volta. Sì. E poi, una parte, penso, di lui. Poi, ok, lui, un pezzo, penso, di lui. Poi, il loro cucciolo. Ah, questa figurina, se non sbaglio, l'avevo già trovata. Vabbè, poi vedrò meglio. Dopodiché, c'è una parte del signore S, una parte di lui e Sophie. Di nuovo questa figurina. E poi, questi animaletti, che non mi ricordo come si chiamino. Comunque, nel caso voi lo sapeste, scrivetemelo nei commenti. E poi c'è lui. Di nuovo questa figurina. Di nuovo questa figurina. Di nuovo questa figurina. E di nuovo questa figurina. Sì. Cioè, solo questa, alla fine, non è una figurina, diciamo, una figurina nuova. Mentre le altre sono tutti doppioni. Su cinque figurine, quattro doppioni. Perfetto. Di nuovo la figurina di Kira. Ok. Lui. Lui in versione cartoon. Un altro pezzo di lui. E poi questa figurina che avevo già trovato. Che bello trovare tanti doppioni. È proprio una cosa che ti scalda il cuore, trovare sempre tanti doppioni. E tra l'altro, solo adesso ci sto pensando, ancora non abbiamo trovato la golden card. Perfetto. Non la troverò mai, sicuramente. Ok, allora, qui c'è Sofì, ma penso di averla già trovata, questa figurina. Non vorrei sbagliarmi. Vabbè, nel caso la tengo per il momento. Poi c'è questa figurina a metà. Un pezzo di lui. Sofì in versione cartoon. E di nuovo questa figurina. Mi sembrava strano non trovare doppioni in una bustina. Qui c'è Sofì. Un pezzo di lui con lo skateboard, almeno credo. Lui con questa espressione fantastica. Sofì, in versione cartoon, è un pezzo di Sofì, penso Sofì. O forse lui, non lo so, vedremo nel caso dove riuscissi a completarla. Ok, adesso è sicura che ho il doppione. Anche di questa, se non sbaglio. Penso di sì, comunque. Io purtroppo non me le ricordo tutte. Dopodiché c'è Rei in versione cartoon. Kira. E poi di nuovo questa figurina che avevo già trovato. Anzi, l'avevo trovata la scorsa volta, quindi... Vabbè, andiamo avanti. Oh, che carina questa foto. Dovredi che c'è Sofì che canta. Bellissima, davvero. Di nuovo questa figurina con gli animali strani che non conosco. E poi c'è quest'altra parte di figurina. Poi, andiamo avanti. Ecco qui Sofì. Poi c'è lui, che canta. Poi c'è Sofì nella piscina di slime verde. Solo che l'ho già trovata questa foto, quindi la posso mettere tra i doppioni. Poi qui c'è lui con Rei. E di nuovo questa figurina. Che bello. Ultima bustina. Vediamo, vediamo. Oh, che carini. Poi c'è lui. Sofì. Penso di averla già trovata questa foto, non lo so. Poi c'è Kira e di nuovo questa foto di lui da piccolo. Bene ragazzi, queste sono appunto le figurine che abbiamo trovato. Devo dire che abbiamo trovato anche abbastanza doppioni. Tutti questi. Vabbè, pazienza. Non sono riuscita neanche a trovare la golden card. Adesso vedrò se sono riuscita almeno a completare l'album. Bene, adesso è arrivato il momento di attaccarle. Bene, adesso è arrivato il momento di attaccarle. Bene, adesso è arrivato il momento di attaccarle. Ok ragazzi, ho finalmente attaccato tutte le figurine. Come vedete, per esempio, per quanto riguarda questa mega figurina, me ne manca solo una per poterla completare. Lo stesso vale per l'ultima. Vabbè, poi la vedremo. Poi, vabbè, qui me ne mancano poche. Quindi non sono riuscita a completarla. Però ce l'ho quasi. Vedete, qua non l'ho completata. Questa ne ho trovata solo una. Qua me ne mancavano due. Questa l'ho completata. Alcune le ho messe un po' storte, un po' male, specialmente per via della mano, visto che ne ho praticamente a disposizione solo una. Comunque, molte sono riuscite a completarle. Per esempio, questa l'ho completata. Qui ne ho messe giusto qualcuna. Non ne ho trovate molte. Però dai, ne ho trovata una buona parte, comunque. E poi, vedete, appunto, l'ultima. Me ne mancava solo una. Che però non ho trovato. Bene, ragazzi. Purtroppo non abbiamo trovato la Golden Card. Però, comunque, sono riuscita a più o meno completare la metà dell'album di Me Contro Te. Bene, ragazzi. Adesso passiamo finalmente al giveaway. Allora, ragazzi. Questo giveaway durerà 10 giorni. Quindi, tra 10 giorni, io scriverò nella descrizione di questo video i vincitori. E, appunto, voi dovete andarli a vedere. I vincitori saranno tre. E ognuno potrà ricevere 15 dollari di squishy dal sito che lascerò qua sotto nella descrizione. Che sarebbe ben good. Le regole per partecipare al giveaway sono sempre le stesse. Quindi, dovete essere iscritti al mio canale. Dovete lasciare un mi piace a questo video. E dovete commentare dicendo quali premi vorreste, appunto, ricevere. Li dovete scegliere dal link che lascerò nella descrizione. E siccome mi dispiace di non aver trovato la golden card, ho deciso che come quarto premio ci saranno questi doppioni che ho appunto trovato. Tutti i doppioni che ho trovato, visto che un po' mi dispiace di non aver trovato la golden card. Quindi, almeno, qualcosina dei me contro te. Perciò, mi raccomando, partecipate in numerosissimi. Inoltre, c'è anche uno sconto del 10% per tutti i nuovi clienti, sempre di ben good. Nel caso qualcuno volesse comprare dal sito che, appunto, lascio nella descrizione. Bene, adesso passiamo ai saluti. Inoltre, 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 inoltre. Se questo vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale e di passare anche dei miei profili Instagram, dei quali lascerò qua sotto i link. E, inoltre, vi ricordo di seguire anche la mia nuova pagina di Facebook, che si chiama GiuliaGuarra03, della quale lascio qua sotto il link. Bene, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!